Ben trovati, questo video tutorial riguarda sempre la compilazione della domanda per il creatore di istituto di terza fascia del personale ADA per il triennio 2021-2023. In particolar modo andremo a vedere come compilare la parte riferita alle preferenze di sede. Facciamo avanti, vediamo che qui abbiamo l'inserimento per quanto riguarda il profilo assistente amministrativo, per quello che per quanto riguarda l'assistente tecnico e il collaboratore scolastico. Facciamo avanti e entriamo proprio nel modello di presentazione della domanda. Una volta compilate, come abbiamo già fatto vedere, i profili assistente amministrativo, assistente tecnico e profilo collaboratore scolastico e aver riempito la domanda in tutte le sue parti, c'è una parte che è obbligatoria che è la scelta delle preferenze di sede. Almeno una è già inserita perché la scuola capofila scelta all'inizio risulta sempre come il numero di una sede già espressa, ma se ne possono aggiungere oltre quella altre 29. Questa scelta delle preferenze di sede vale per tutti i profili di inserimento o di conferma o di aggiornamento. Per cui andando a compilarla e facendo accedi entriamo nell'elenco delle preferenze di sede. Troviamo chiaramente quella già inserita all'inizio della domanda per poter procedere come scuola capofila. Chiaramente se si vuole modificare questa scuola capofila lo si deve fare all'inizio della domanda, dunque tornando indietro e facendo la modifica all'inizio della domanda. Altrimenti si possono aggiungere le altre sedi oltre questa, cioè altre 29. Facciamo aggiungi, andiamo su una ricerca di sede, scegliamola per esempio per comune, andiamo a prendere il comune della città di Reggio Calabria. Andiamo a prendere Reggio Calabria, lo inseriamo e poi facciamo cerca. Ci darà tutte le scuole il riferimento del territorio di Reggio Calabria. Si potranno selezionare anche con scelta multipla, cioè in una sola operazione se ne possono scegliere, vedete sta scendendo qui il numero delle sedi rimaste, da 23 passiamo poi a 22, 21, 20 e così via, fino ad arrivare a compilarle tutte quante, cioè a riempire completamente il numero delle sedi possibili. Per cui andiamo a fare questo esempio, compiliamola, vedete qui abbiamo la scuola capofila che non è più possibile selezionare in quanto è selezionata in partenza, se ne possono selezionare tutte le altre, tutte le altre fino ad arrivare in questo caso a un massimo di 26 sedi e poi si fa inserisci. Ecco che tutti di colpo vengono inserite, ne rimangono solamente 4 sedi esprimibili. Come fare ad aggiungere altre 4 sedi? Andiamo ad aggiungere. Selezioniamo un altro comune, per esempio il comune di Bova Marina, vediamo di cercare le scuole su questo comune, ne scegliamo altre 2, facciamo sempre seleziona, inseriamo e ne rimangono solamente 2. Aggiungiamo ancora per andare a completare e a scegliere completamente tutto quanto, il numero completo, per esempio scegliamo la sede di Città Nova, andiamo a cercare, troviamo altre 2 sedi che possiamo inserire, le inseriamo, facciamo seleziona ed ecco qui completato anche questo elemento, questa sezione dell'elenco delle preferenze di sede. Vi ringraziamo, faremo ancora un altro video tutorial per vedere come si compila la sezione dei titoli di servizio. Arrivederci a tutti.